La spiaggia di pane e pomodoro nel primo giorno di scuola si trasforma in un laboratorio creativo, elemento dominante la sabbia. A cimentarsi con pale e secchielli gli alunni di quarta della scuola elementare Piccini. Il progetto sviluppato dalle insegnanti dell'istituto comprensivo Umberto I San Nicola, interamente dedicato a Bari e il mare. Il mare come punto di partenza di un percorso scientifico ambientale. Il mare come risorsa naturale con la quale i bambini devono imparare a convivere. Il mare da annoverare nel patrimonio naturale, da rispettare e valorizzare. Sculture di sabbia sulla spiaggia in una giornata di fine estate, ma con un mare assai invitante. Ed ecco allora alcune delle opere dei 125 artisti in erba realizzate direttamente sul campo, ovvero sulla spiaggia scelta non a caso come aula all'aria aperta. Impegnati in un'attività volta a sviluppare le competenze. L'ippocampo, la stella marina, la medusa, il granchio, i gamberetti. Sul luogo a stretto contatto con gli elementi naturali, a sentire le insegnanti e la preside Renata Bellini si impara prima e meglio. Tutto sommato un modo assai originale per affrontare in maniera meno dolorosa l'inizio dell'anno scolastico. Con il pensiero ancora rivolto alle vacanze, ma che ha contribuito dopo qualche minuto a scacciar via tristezza e malinconia. Il mare come momento di accoglienza per ricordare le cose che piacciono e che divertono.